buonasera a tutti bentornati in un nuovo video di fenomeno e sanco in cui faccio i quiz di scuola guida la volta scorsa è andata male abbiamo fatto 5 errori cioè non solo l'abbiamo fallita ma ne abbiamo fatti cinque non quattro più del limite non va bene c'è da dire che gli errori che ho fatto erano a causa della distrazione per il fatto che stavo parlando mi giustificò così cioè due di questi errori quindi avrei fatto tre errori avrei passato ma comunque tre errori siamo proprio al limite oggi speriamo di farne zero con la scheda 5 e iniziamo subito il passo carrabile è una strada riservata ai carri trainati da animali no il segnale raffigurato è un segnale di precedenza no è un segnale di pericolo il segnale raffigurato vieta il transito di veicoli a trazione animale no trazione a braccio il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli sprovvisti di catene o pneumatici invernali sì non sempre ma sì il segnale raffigurato in autostrada viene posto una distanza maggiore di 250 metri non c'è in autostrada questo non ci sono incroci in autostrada la segnaletica in figura non consente la sosta 20 metri prima della striscia gialla zig zag no sono nella zona il semaforo in figura indica il divieto di transito per le biciclette no è un semaforo il segnale raffigurato preannuncia un pericolo per chi svolta a destra per il possibile attraversamento di treni sì il pannello raffigurato b indica la corsia riservata agli autobus urbani no indica l'inizio di valenza di un cartello il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare veicoli fermi in colonna sì il segnale raffigurato indica in 90 km orari il limite massimo di velocità nei centri abitati ma se mi capitano queste stronzate all'esame culo assurdo no è falso falsissimo il 90 è fuori dai centri abitati extraurbani e secondari il segnale raffigurato nelle strade urbane a più corsie consente di mettersi nelle corsie di canalizzazione quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che la corsia da impegnare sia libera davanti per un tratto sufficiente sì nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D ha la precedenza sul veicolo C sì vedete C deve andare a dritto D gli arriva da destra e quindi alla precedenza il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un'isola di traffico sì un ostacolo in generale che può essere un'isola di traffico il segnale raffigurato non consente la sosta a veicoli diversi da quelli al servizio di persone invalide vero il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di cantieri stradali con escavatori e palle meccaniche in azione sì nelle aree pedonali i ciclomotori possono transitare solo di giorno allora anche se potessero perché solo di giorno non ha senso come regola e poi non possono le aree pedonali sono aree pedonali solo pedoni cioè tre ciclomotori indossare il casco in modo errato o senza averlo correttamente allacciato può comportare gravi rischi alla salute in caso di caduta o incidente certo la perdita di punti sulla patente per infrazione al codice della strada è raddoppiata se effettuata la guida di autovettura di potenza superiore a 115 kilowatt no solo è stato raddoppiata per i neopatentati i primi tre anni in presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere a velocità moderata certo il segnale raffigurato preavvisa a destra un passaggio a livello senza barriere no bisogna usare particolare prudenza nei confronti dei conducenti che hanno conseguito la patente di guida in uno stato estero si in teoria perché magari hanno qualche regola diversa e fanno qualche cazzata la prudenza non è mai troppo è vero la patente a m consente a chi ha compiuto 14 anni di condurre ciclomotori in tutti i paesi dell'unione europea che minchia ne so, no, non credo secondo me no cioè no, cambierà in base, c'è rischio di cambiare è falso un'insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici fa aumentare l'attrito e anche i consumi di carburante si un incidente a bassa velocità non crea problemi di incolumità ai conducenti coinvolti ma potrebbe anche farlo invece l'uso corretto della strada comporta che si usino in ogni caso i proiettori a luce abbagliante no pericolosi è obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli quando si effettua la retromarcia si si secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo H si il segnale raffigurato è un preavviso di deviazione temporanea yes lunga due chilometri un errore buono 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 quale errore ho fatto? ah vabbè 23 quella su su quelli degli stati esteri sono a sega io vabbè il mio ragionamento era magari se hanno preso la patente in un altro in un altro stato ci sono leggi diverse e quindi rischiano di metterti in pericolo perché fanno una cosa che qua magari ha una regola diversa però no non dipende da quello a quanto pare vabbè comunque 29 su 30 va più che bene sì questo è un errorino adesso lo sappiamo va bene ragazzi anche oggi abbiamo finito vi ho fatto una miglioria sicuramente rispetto all'altra volta in cui siamo stati bocciati con 5 errori ehm allora abbiamo fatto 2 errori 2 errori 1 errore 5 errori 1 errore si punta a farne almeno 1 o 0 perché queste prima le ho fatte tutte a 0 queste del gruppo D cioè tutte no la maggior parte erano con 0 errori si spera di cazzo ora che faccio i video faccio gli errori metto le domande stronze vabbè ci vediamo nel prossimo video domani e prossimamente con altre quiz di guida ciao ragazzi